radio 2 i provinciali caro pif iniziamo parlando di un importantissimo evento di un record a cui diciamo tutto il mondo sta guardando in queste ore sono tutti concentrati credo che ci sia un collegamento da sanremo addirittura perché la direttore artistica baglioni abbia deciso dicendo la vita è adesso e queste cose non vanno non devono essere così lisciate non dobbiamo mancare a questo punto di evento storico non è questo l'evento a cui stavo riferendo no dico sanremo si è fermato per questo che ho fatto qua ah per questo va sì scusa è vero si è fermato sì 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 volevano anche rinviarlo perché domenica sì domenica 11 febbraio quando da sanremo è già finito però purtroppo infatti hanno preferito farlo durante la settimana avevo pensato quest'anno di fare il grimizzo la domenica no no perché c'è questa manifestazione ma di cosa stiamo parlando ma guarda a gorizia quindi siamo in friuli venezia giulia proveranno proveranno a realizzare un record del mondo che tutti aspettavamo tutti se ne sentiva l'esigenza indovina stiamo qua a dirlo sanno tutti il record il mondo del quello che ha la lingua più lunga no 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 di più di più una cosa più importante una cosa non posso dirlo cosa può essere non è quella è il tiramisù il tiramisù più lungo del mondo ah il tiramisù più lungo del mondo sì perché esiste a gemona in provincia di udine diciamo è stato programmato nel 2005 il tiramisù più grande del mondo adesso il più lungo il più lungo stabili cosa cosa vuol dire il più lungo infatti non saremo né io né te a dirlo ci colleghiamo subito con l'ideatore come dire il cuore l'animatore di questo evento di questa sfida gigi padovani gigi tu sei un amico dei provinciali gigi ma sì tiriamoci un po su dai perché noi stiamo preparando con gli organizzatori friulani a villesse vicino a fragorissimo falcone un grande tiramisù 150 metri di dolcezza un record mondiale io lo dico sempre a me il tiramisù il caffè non piace mi piace la crema questo è lo zabbaglione eh certo certo ci sarà lo zabbaglione col mascarpone come si deve mascarpone ma il mascarpone è un zabbaglione del tiramisù no cioè c'è un siccome bisogna usare le uova cotte si fa una sorta di zabbaglione e poi si aggiunge il mascarpone scarpone ma la cosa bella è che lì al chiare guinness ci sarà questo guinness world record con tanto di giudici da londra eccetera 150 metri il tiramisù più lungo del mondo è un tentativo mai fatto ma quindi non c'è un record precedente si prova per la prima volta giusto esattamente per la prima volta scusa Gigi la domanda che sorge un po' spontanea tutta l'Italia si chiede ma anche un un australiano se si venisse a sentire questa questa notizia la domanda appunto è ma perché beh perché è il nostro dolce più famoso nel mondo e quindi riuscire a farne diventare un record come quello che è conosciuto in tutto il mondo quello della guinness world record diciamo che è un modo per anche far conoscere il territorio friulano voi sapete noi abbiamo scritto questo libro in cui abbiamo scatenato la guerra fra il friuli perché voi sostenete che il tiramisù sia friulano e non veneto ricordiamolo almeno i primi i primi però la cosa della in questa diciamo competizione fra il friuli e il veneto è che ciascuno fa le sue iniziative e poi ci sono anche come in questo caso dell'azienda un'azienda veneta che è di previso che ha creato uno spumante che si chiama tiramisù e quindi chiaramente brinderemo con uno spumante veneto della storia al tiramisù friulano credo che in questo caso possiamo dire facciare la pace beh qualcuno potrebbe anche prenderla come una provocazione però vabbè non entriamo nei termini ma scusami ma per fare un tiramisù di 150 metri sì parliamo del necessaire cioè gli ingredienti 30.000 savoiardi quante uova? l'uova sono diciamo sui 300 chili perché lì vanno a chili devono farle in modo ecco qui abbiamo 300 litri di caffè e una crema col mascarpone che sarà fatta di 200 chili di mascarpone insomma record totale 150 metri di dolcezza che saranno distribuiti gratuitamente a chi viene in questo chiare centro commerciale centro commerciale quindi uno va là e se lo magna gratis ci sarà una folla una fila pazzesca palla qui dalle 18 in 17 in avanti di una domenica perché è chiaro che prima questi partecipi Gigi vedi c'è il troppo il troppo tiramisù si è tirato giù si è tirato giù va a parlare il tiramisù e si è cantata la linea